Digitalizzazione e smart working nelle aree interne. Possono essere le leve per spingere il Molise verso un futuro fatto di lavoro e ripopolamento dei borghi. Il progetto di modernizzazione, che parte dal Molise ma riguarda tanti altri territori del paese, scaturisce da un'iniziativa di Micaela Fanelli. La capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale nei giorni scorsi ha messo a confronto sul tema, neanche a dirlo via streaming, un nutrito gruppo di esperti, espressione del mondo dell'impresa, di cooperative, di enti di formazione, agenzie interinali e associazioni. L'obiettivo? Discutere delle opportunità offerte dalla modernizzazione e del percorso attraverso cui arrivarci. All'incontro che mirava soprattutto a fare il punto sull'iter dell'apposita proposta di legge di cui è artefice la stessa Fanelli, hanno preso parte decine di politici DEM, riuniti nelle cosiddette agora democratiche. Con i nuovi paradigmi nel modo di produzione, ha sottolineato la capogruppo PD, stanno emergendo figure lavorative connesse ai moderni processi di digitalizzazione. Processi che vanno presi in considerazione a 360 gradi nell'ottica di interventi legislativi pensati per promuovere lo smart working nelle aree interne del Paese, sia come leva per ripensare complessivamente i rapporti del mondo occupazionale, sia anche come strumento per ripopolare i luoghi più periferici del Paese, favorendo in questo modo coesione sociale, territoriale ed economica e riducendo le attuali crescenti disuguaglianze. La proposta Fanelli ha già ottenuto l'assenso del Partito Democratico Nazionale.